hello guys what's up this is ab71 from san francisco california allora intanto benvenuto al maestro ad andrea pierlo il maestro nuovo tecnico tutto già previsto da questo canale io sono contento io sono contento e non sono affatto d'accordo con quelli che dicono che andrea pierlo non ha nessuna esperienza nessuna esperienza forse come allenatore sì però con il parma res che andrea pierlo ha io non vedo questo problema secondo me pierlo è un uomo di grande carisma fascino eleganza bontà di idee l'ho sentito parlare del calcio eccetera delle sue idee eccetera e mi ha conquistato subito come penso abbia fatto con il nostro andrea agnelli che secondo me si è innamorato delle sue idee e le vuole vedere in pratica sinceramente le voglio vedere in pratica anche io sono un po stufo di sentire parlare di nomi di altri allenatori eccetera e sono contentissimo di questa scelta della società e io penso che andrea pierlo farà molto ma molto bene soprattutto se verrà aiutato adesso da quattro innesti in squadra per cercare di avere un certo ricambio generazionale e un quattro ricambi nella stagione a venire sono molto dispiaciuto altresì per il comportamento di i tifosi delle altre squadre che sembra che vincano loro qualcosa quando noi perdiamo perdiamo in champions ok o perdiamo la coppita italia cose del genere ci saltano subito al collo eccetera ragazzi ma voi da quanto è che non vincete un titolo sono quelle poche briciole che noi lasciamo qui e lì ogni tanto come anche in questa stagione qui completamente anomala eccetera dovevamo un allenatore completamente non a livello della juventus comunque abbiamo vinto lo scudetto siamo arrivati in finale di coppa italia e siamo usciti agli ottavi di champions league sicuramente con una squadra che era alla nostra portata completamente eccetera ma questa stagione è questa stagione non c'è nulla a fare però voglio dire guardate alle vostre squadre cosa stanno facendo no io invece proseguo sulla mia linea di complimentarmi con l'inter che è passata l'altro giorno anche con un bel gol di lukaku mi dispiace per il napoli perché ho appena visto che ha beccato il secondo gol dal barcelona a parte di messi e mi dispiacerà se dovesse andare male per l'atalanta ok per cui non capisco tutto questo astio contro la juventus sembra che vinciate qualcosa quando non state vincendo niente gioite solo delle nostre sconfitte quindi già questo vi dovrebbe dare da pensare da pensare da pensare molto di quanto poco sia stato fatto da parte delle vostre società invece noi sono nove anni che vi asfaltiamo continuamente in campionato nella maggior parte delle coppa italia delle supercope e siamo arrivati anche due volte in finale di champions league quindi ragazzi io vi rinvito sempre ad essere sportivi eleganti nei commenti perché il gioco del calcio è solo un bellissimo sport che tutti noi amiamo e dovremmo portarlo avanti in quel modo lì capisco beffeggiare eccetera ma vedo che alcuni vanno fuori dalle righe con i commenti eccetera e questo mi dispiace sempre mi dispiace sempre perché dovete capire che se avete riavuto il quarto posto per esempio per entrare in champions league eccetera è solo per merito della juve perché le vostre squadre non sono quasi mai andate oltre i gironi ok quindi riconoscete i meriti di questa società riconoscete l'ottimo lavoro svolto della juventus dopo capisco che chi vince per nove anni di fila diventa antipatico diventa pesante diventa tutto quello che volete però dovete essere anche grati a questa grande società che ha dato l'opportunità di riavere il quarto posto per qualificarsi alla champions league ok per cui ricordatevi sempre queste cose qui comunque ritorniamo al punto principale io avevo chiaramente manifestato il nome di andrea pierlo da tempo io sono contento che è arrivato stiamo parlando di un campione del mondo vincitore della champions league vincitore della coppa intercontinentale vincitore di parecchi scudetti coppa italia super coppe eccetera per cui il parmares di pierlo non si discuta secondo me è anche un una persona molto riflessiva quindi non farà gli errori di sarri che fa le baruffe toscane con tutti eccetera i drammi napoletani e quant'altro e penso che lui instaurerà un rapporto con i giocatori di fiducia instaurerà un gioco decente si vedrà alla mano di un allenatore e sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni questa è la mia convinzione per cui io do il benvenuto al maestro andrea pierlo da oggi mister il maestro mister ok benvenuto alla juventus ti avevo già dato il benvenuto come under 23 ma avevo detto a tutti che dopo la partita di champions che avremmo perso perché i giocatori ormai hanno mollato in tutto e per tutto sarri e quant'altro ringrazio ronaldo come ho detto nella live di questa mattina per il grande impegno e professionalità dimostrato fino all'ultimo anche se non ne poteva più di sarri e del suo calcio e delle sue scelte come aveva visto molti altri incominciare da douglas costa e sono sicuro che pierlo per il suo blasone per la sua cortesia per la sua eleganza eccetera riuscirà a tenere lo spogliatoio compatto che lo ascolta riuscirà a imporre le sue idee di gioco e finalmente vedremo del gioco del calcio nella prossima stagione ne sono fermamente convinto vi saluto a tutti fino alla fine sempre forza juve live ahead e ricordatevi che manco guardiola e zidane non avevano esperienza di panchina sono andati al barcellona real madrid e hanno fatto quello che hanno fatto quindi non vuol dire assolutamente nulla l'esperienza da allenatore ma bensì il carisma e il blasone e l'eleganza e queste tre doti pierlo indubbiamente ce le ha ciao a tutti ragazzi guasa